Ancora guai per le scuole comasche. Dopo il crollo di una parte di intonaco dal soffitto nell'istituto Marconi di Albate lo scorso 17 dicembre, oggi è stata la volta della scuola primaria Bianchi di via Isonzo a Prestino. A causa del blocco della caldaia i bambini sono stati trasferiti alla secondaria Aldomoro di via Picchi. I tecnici sono intervenuti subito in mattinata, fanno sapere dal comune, sono stati riscontrati un guasto alla linea principale del riscaldamento e uno a quella dell'acqua calda dei bagni. Entro domani dovrebbe essere riparato il guasto e mercoledì gli alunni dovrebbero poter tornare sui loro banchi. Dall'istituto fanno sapere che l'orario scolastico resta invariato. L'ingresso è alle 8.05 alla scuola di via Isonzo e gli alunni saranno successivamente accompagnati dai docenti alla scuola secondaria di via Picchi. L'uscita è prevista alle ore 16.05 presso la scuola media. Il servizio mensa è regolarmente garantito e anche le attività extrascolastiche si svolgono alla scuola Aldomoro. Intanto la media Marconi non è tornata completamente agibile nemmeno dopo le festività natalizie. I lavori di ripristino e messa in sicurezza non sono terminati e proseguiranno almeno fino a metà gennaio. Entro questa settimana, secondo quanto anticipato dall'assessore Angela Corencia, saranno ultimati gli interventi nella prima metà del secondo piano della scuola, mentre entro metà mese i lavori dovrebbero essere completati e si dovrebbe tornare alla normalità. Oggi quindi parte degli alunni non è tornata nelle proprie aule. Le classi prime A e B sono state trasferite alla scuola primaria Colbi in via Santa Chiara e le classi terzi A e B alla scuola primaria Picchi in via Acquanera. Attivo il servizio autobus per i bambini che sono stati spostati in altri plessi. Le classi della scuola secondaria di primo grado invece frequentano normalmente le lezioni nell'istituto di piazza 4 novembre. E sulla situazione delle scuole comasche il comune fa sapere di aver iniziato un monitoraggio strutturale. Grazie. 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 Grazie.